buongiorno ragazzi allora pollicione se volete iscrivervi vi ringrazio attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio sempre i condividimi video anche se sono in vacanza io sto attento alle situazioni italiane perché le notizie arrivano arrivano e sono comunque reperibili e sono notizie onestamente e obiettivamente orrende orrende in tante cose prima di tutto la bozza del decreto sostegni sembra i sindacati almeno landini abbia battuto un colpo poiché poi questo colpo sia si concretizza in qualcosa di serio mi va cioè io questo dubbio ce l'ho se si concretizzano cose di serio mi va benissimo se l'ennesima sceneggiata vabbè siamo sempre lì facciamo il gesto e poi in concreto non si incombina un accidente perché ragazzi la bozza del decreto sostegni è un'elemosina di stato ma letteralmente lemosina perché se uno si fa un paio di calcoli si accorge che si tratta di poche decine di euro date per tre mesi sia ai dipendenti e ancora meno i pensionati ne prenderebbero i pensionati che ne avrebbero ancora più bisogno ne prenderebbero anche meno di soldi ma veramente una elemosina poi vabbè ci sarà la prolungamento del del taglio dei costi dei carburanti ma per un mese e poi a settembre perché non è che il problema si risolve tra un mese mettevelo in testa come non si risolverà tra un mese il problema dei costi dell'energia ci sarà un altro taglio delle delle ac dei costi di sistema sulle bollette ma non risolve neanche questo il problema può durare anche addirittura anche l'anno prossimo sembra sia ventilato questa ipotesi ma siamo sempre qua il problema è strutturale perché come diceva prodi l'italia non è indipendente energeticamente semplicemente cambia dipendenza invece di prenderli da vladimir o di prendere da un altro stato in cui tra l'altro i diritti umani finiscono tranquillamente nel cesso ma e quando fa comodo è come gli accordi con la turchia no fino all'altro giorno erdogan era il babau era il mostro nero sotto sotto il letto e adesso improvvisamente va bene tutto perché ci serve per altre cose e poi c'è il problema elettorale il problema che tocca direttamente voi tocca direttamente voi perché uno dei punti della campagna elettorale è il reddito di cittadinanza e le proposte che sento mi sembrano portate avanti da gente che prima di scriverle è passata in un'enoteca e la svuotata e sto andandoci leggero partiamo dalle scemenze di toti sul togliamo il reddito usiamolo da dare per fare impresa toti siamo sempre qua ma tu quando cacchio mai fatto impresa in vita tua tra posta tra l'altro che è arrivata anche da brei attore e vi giuro c'è gente che commentando la scemenza che dice nel suo caso si rivolgeva alle università diceva è giusto è giusto ecco vediamo quanti diciottenni mandateli a fare impresa a 18 anni in italia proviamo proviamo io mi ricordo cosa fece bibi per far fare impresa da noi ma con un sistema economico completamente diverso e serviva portare dei progetti prima di vedere il cash vedere i soldi se no ti attaccavi al tram in italia come fai impresa che ci sono più pastoie burocratiche che che peli sulla schiena di una di un san bernardo non lo so è perché facile parlare quando hai la residenza fuori dello stato e sei una persona che dal punto di vista fiscale non sei pulita se la dia di imprese quella è fare le scatole cinese l'abreatore grazie no grazie no ma questi personaggi vengono anche ascoltati ci sono anche fessiche si si ha ragione ha ragione io non so se quelli che dicono che ha ragione sono dei bimbi minchia nutellosi o sono dei pensionati con la pensione d'oro o completamente rintronati perché evidentemente il mondo del lavoro attuale non lo conoscono neanche per sbaglio soprattutto il mondo del lavoro dei giovani in italia non ce ne sono così tanti visto che è un paese in decrescita dal punto di vista demografico potrebbe arriva la proposta di fratelli d'italia diamo per un anno non per un anno e basta da 400 650 euro le famiglie di over 60 e così ecco e la meloni e la santanchei l'olobrigile i corsetti mi devono dire quando cazzo nella loro vita non ho mai lavorato una volta perché quella loro il loro lavoro è sempre far politica non hanno mai dovuto confrontarsi col lavoro vero soprattutto la santanchei a meno che non si voglia considerare il lavoro vero la sua attività di non so di supporto a qualsiasi serata chic della milano bene gente che generalmente ha le pezze al culo ma va e mercedes ecco mi fa vedere mi fanno c'era vedere la meloni e compagnia quante aziende assumono over 40 quante assumerebbero over 40 con uno stipendio dignitoso né perché la loro idea di stipendio dignitoso e 600 euro al mese 700 euro al mese loro non ve lo dicono in faccia perché roba la fa da brividire ma è quella la loro idea lo stipendio padronale quella la loro idea non so vogliamo tornare 1800 è perché vogliamo tornare al periodo in cui tiravate giù le cancellate per fare le baionette perché forse è quello il vostro periodo non lo so dove sa e ovviamente poi quello che risparmi da lì lo dai agli industriali che visto l'andazzo italiano la metà lo butteranno nel cesso poi ci sono quelli bravi quelli bravi chissà perché li noti li noti perché si rendono conto della situazione dei loro operai quelli che non se ne rendono conto cioè i briatore danzante gente così che non fa impresa fa altro e scatole cinesi non risulta che fa anche siano impresa e ribadisco quando lui parla di america se lui fosse stato in america quei giochetti che ha fatto con monte carlo e così e lui adesso sarebbe dove stanno i madov e i compagni adanzanti di quella specie lì dove stava il capone ecco mettiamolo così altro che venire qua a blatterare e poi il centro sinistra centro sinistra io non ho capito cosa vuol fare con l'rdc non si è capito un accidente lo vuole modificare come lo vuole modificare e insiste però su una cosa su cui assolutamente continuo a dire non funziona così in italia a mantenere le due i due elementi uniti cioè da una parte il sussidio e dall'altra la ricerca del lavoro in italia questo sistema non può funzionare semplicemente perché il sistema di ricerca del lavoro attraverso centri per l'impiego così è stato smantellato vi siete solo preoccupati di tutelare i parassiti cioè i navigator e in questi tre anni non avete costruito niente in quel settore niente i centri per l'impiego sono dei relitti come sono prima come erano prima il sito ampal fa vergogna per essere un sito governativo eppure cioè vogliamo cominciate a farlo eravate il governo e non è che eravate l'opposizione eravate il governo e non avete fatto una sega tranne introdurre dei controlli che dal mio punto di vista stanno picchiando un po dove colgo colgo ecco non vanno a guardare le situazioni vanno a guardare un dato statistico che magari non neppure aggiornato e qui apre una piccola parentesi mi manda le vostre io non posso sapere il motivo per cui vi hanno sospeso l'rdc non vi hanno dato il bonus 200 euro gli unici che lo possono sapere sono quelli dell'inps che ha detto che farà delle lavorazioni extra non ha detto quando però io non lo posso sapere perché non ho la vostra scheda non so esattamente quali sono le vostre condizioni e soprattutto dovreste controllare se non ci sono già altri ambiti in cui lo potreste prendere questo non significa prenderlo a luglio cioè se uno di voi appartiene a una delle categorie che lo prenderanno ottobre non lo prende e non se l'è trovato a luglio vuol dire che dovrà aspettare ottobre non se lo ritroverà comunque nel rdc e la realtà è questa qui lasciamo perdere poi la minchiata di forza italia uscita dal dal satiro ottogenario dell'aumento delle pensioni a mille euro perché piccola cosa il reddito costa circa 9 miliardi circa l'aumento delle pensioni di cui blattera l'ottogenario potrebbe arrivare a costarne 20 di miliardi all'anno da dove saltano fuori perché è facile in campagna elettorale milione di posti di lavoro chi li ha mai visti rilancio dell'impresa tra l'altro a giugno boom di assunzioni 116 mila ma una volta tanto il era fatto una cosa da giornalista mi ha mandato l'estratto jack qui si dice chiaramente si sono 116 mila posti di lavoro in più però non sono frazionati cioè non si capisce quanti sono a tempo indeterminato quanti sono a tempo determinato quanti sono gli stagionali quanti sono gli stage quanti sono le borse lavoro quanti sono posti di lavoro per un mese non c'è nessuna differenziazione è tutto insieme quindi c'è una cifra alta che però può essere composta da una grandissima maggioranza di lavori a termine breve però visto che bello io voglio i dati concreti reali e tanto per ricordare la meloni e alla banda di fancazzisti che stanno ricordatevi che il 46 per cento dei percettori delle rdc ha un lavoro semplicemente non arriva con quel lavoro ad avere una soglia di dignità economica per poter vivere io dovrei anche spiegarlo alla manica di fessi di eroi da tastiera che c'ha ragione la meloni c'ha ragione qui che non sono tutti la verità in qualsiasi sistema si si infilano le mele marce ma questo non significa che tutto il sistema sia marcio perché altrimenti cosa facciamo togliamo tutte le invalidità per colpa delle mele marce nelle invalidità non lo facciamo no perché è sbagliato però in questo caso è il punto in cui ci si picche di più ci si picche di più con gente che ti viene a dire che così ma io sei settecento euro al mese con un incremento dei prezzi al consumo del 9.1 per cento quindi ragazzi un incremento pesantissimo questi ti danno il 2 per cento di aumento sulla busta pago sulla pensione ma chi vogliono prendere per il culo perché è questo che stanno facendo perché ricordatevelo che durante la pandemia loro non hanno rinunciato a un centesimo delle loro ricche prebende neanche un centesimo quindi io torno a dire una cosa votate in modo utilitaristico e ribadisco se il movimento 5 stelle vuol tornare ad essere un movimento serio vuole diventare un movimento serio sfrutti la fine del doppio mandato anche se so che stanno già cominciando a girare le eccezioni per buttar fuori reggimento di inutili incapaci incompetenti figuranti da social e ci metta dentro gente che per così dire testa bassa è lavorare ma lavorare sul serio sulle competenze chiudo con un'osservazione ritornando a bregatore perché ovviamente toccando la scuola figuratemi se non mi incazzo caro breatore l'università italiana costa troppo è vero sta diventando anche un parcheggio ma non è un parcheggio dovuto agli studenti ma cattedratici che non ci sono o sono vecchi vecchi intesi come età e come preparazione in tutte le materie perché cosa succede in italia vince il nobel parisi fisica e poi lo senti parlare medicina ma che cazzo c'entra è come se io mettessi andassi in un'aula spiegare le reazioni atomiche direi delle vaccate perché la mia preparazione è minimale ecco lì siamo ha vinto il 9 per la fisica allora deve parlare di medicina no parla di quello che sai però dico se costasse meno se fosse anche un po più pressante dal punto di vista delle tempistiche cioè non che cominci e poi finisci dopo 15 anni se se si premiassero veramente gli studenti più bravi se gli insegnanti fossero sempre presenti e non ribadisco soprattutto i cattedratici te li devi andare a cercare se gli assistenti fossero pagati il giusto e non un elemosina e non si promuovessero i lecca piedi ma quelli bravi forse andrebbero meglio ma non penso che ecco caro rettore tu come essere umano mi repelli non è il 4 per cento degli studenti italiani quando escono trovano un lavoro perché ad esempio chi sta uscendo adesso dalle facoltà di medicina lo aspettano fuori perché non ci sono medici non ci sono medici non ci sono ingegneri non ci sono neanche i docenti nelle materie umanistiche perché avete ridotto la scuola a una tale chiavica e l'avete fatta diventare qualcosa che non ti fa venire voglia di andarci se non per un estrema passione che anche gli umanisti se possono cercare un'altra strada se ne vanno proprio e c'è una bella cosa una che ha detto barbero poi veramente chiudo in italia c'è una cultura dal punto di vista universitario che è quella della scuola tu studi per avere un lavoro ecco barbero ha detto si è perso il senso profondo dello studio studiare per avere conoscenza perché altrimenti finisci per cercare di studiare materie che in realtà non ti piacciono ti fanno schifo e quindi sarai un mediocre nella speranza di quella materia ti possa far trovare un occupazione evitando invece le materie che ti aprirebbero la mente e se uno riesce a coniugare passione e conoscenza il lavoro lo trova qualcosa lo problema è che come è conformata adesso l'università questa possibilità non te la dà e se ci sono pochi pochi italiani che restano nel bel paese dopo che sono laureati perché pena po se sono appena appena bravi si danno perché negli altri paesi li pagano di più ecco bisognerebbe farsi un esame anche sui sui salari minimi e sul premiare quelli bravi perché quando vanno via i bravi restano i mediocri e i malfattori ogni riferimento a chi vende la pizza 65 euro è assolutamente voluto ciao a tutti